signori manufatto in acciaio di un po' saldato e un poco avvolto cioè attaccato con i fili di ferro piccoli di ferro e i fili d'acciaio non ho detto acciaio inoxo ho detto acciaio normale perché vi ricordo che il ferro è uscito fuori riproduzione da tempo proprio è stato sostituito o dalla semplice ghisa oppure dagli acciai l'acciaio inox è un acciaio speciale reso inossidabile con l'aggiunta di nickel cromo e compagnia bella questo qua vedete è stato preso un filo abbastanza resistente di acciaio è stato modellato alcune parti quasi state salda brasate si brasate sono stato perché si vede proprio aspetta non mi sembrerebbe no brasate brasate perché la differenza saldatura brasatura spiegature che la saldatura pigli due pezzi gli scaldi e quelli si azzeccano invece la brasatura di prende un terzo filo c'è un terzo materiale che devi fare da punti da l'uno e l'altro per farlo azzeccare comunque questo è stato a me sembra brasato si sembra proprio brasato si perché si vede proprio la cibavatura qua vedete dove si mette a fuoco questa proprio la cibavatura qua si vede pure con la luce che va sopra comunque qui sono state attaccate due rondelle su questo filo più sottile qui deve essere stato fatto un lavoro fatto bene perché se non è fatto bene quando si usa la saldatrice oppure brasatrice questi acciai più piccoli può riuscire a mangiarseli comunque questi acciai più piccoli sono stati attaccati con un filo così a stringere comunque è simpatica questo ci si mettono che sono ci si può mettere le bottiglie dentro qualsiasi cosa tu voglia potresti mettere uova le uova gli utensili per sé simpatica ma puoi prendere qui dietro non lo so quello che ti vuoi fare poi si appendava mettere proprio qualche immobile riesco a metterla in piedi come la vogliamo chiamare rossita rossito cesia oh rossita tu sei il corpo della mia vita oh rossita qui c'hai pure un pezzo dentro che servirà come una specie di attacca panni oh rossita corda la mia vita oppure sei cesila cesila no perché rossita era un'altra era un'altra delle mie fidanzate oh rossita vuoi vedere il mio biscotto in sopposo oh rossita buona per mettere le uova buona per mettere gli utensili oh rossita corda la mia vita a voi tagli saluti e vota Omar